Sartorio Refice è nata ufficialmente nel 1830, risiede a Cernobbio e facciamo abiti su misura da uomo con la classica lavorazione artigianale. Grazie a un voucher tecnologico di Regione Lombardia siamo riusciti finalmente a poter realizzare il nostro sogno nel cassetto. L'idea era quella di poter seguire i clienti a distanza. Noi installiamo questa IP camera in uno showroom in un'azienda associata e tramite le ombre io ho l'opportunità di vedere e di capire quali sono i difetti dell'abito e quindi posso andare a fare le modifiche al carta modello. Il progetto Let's Go per noi è stato un'importante opportunità. Andando sui mercati esteri ci siamo resi conto che era importante a far conoscere il nostro nome ma questo prevedeva un investimento molto importante che la nostra azienda di piccole dimensioni artigiana non poteva affrontare e il progetto Let's Go ci ha dato questa opportunità. Sempre di recente siamo riusciti a entrare nel progetto Gate e Regione Lombardia ha inviato un temporary export manager, il dottor Bacca, che si è subito rilevato molto professionale. A oggi stiamo lavorando su questo progetto e siamo particolarmente soddisfatti perché è iniziato col piede giusto e il buongiorno si vede dal mattino.